Tre realtà calcistiche, tre storie dal finale diverso ed un unico campionato, la Serie B. Le squadre toscane della cadetteria si avviano ad un finale di stagione dai destini imprevedibili e contrastanti. Scontato in realtà è quello che attende il Livorno, ripiombato in Serie C con l'ultimo posto in classifica ed una situazione societaria in sospeso ormai da troppo tempo. Ma il destino ha voluto che sarà proprio la piazza Maranto a fare da crocevia per le fortuna delle altre due, Empoli e Pisa. Già perché nell'ultima giornata di campionato gli azzurri di Marino, sconfitti 5-1 dal Cosenza e finiti temporaneamente fuori dalla zona playoff che dista un punto, giocheranno proprio all'Ardenza con un solo risultato possibile, la vittoria. Ancora ci sono partite, ci sono incroce, c'è Frosinone-Pisa, c'è la Salernetana che gioca con lo Spezia e quindi anche lì è una partita non semplice e quindi dobbiamo sperare prima a vincere noi e poi sperare nei risultati degli altri. Che potrebbe però non bastare, tuttavia, qualora il Pisa dovesse fare l'impresa e battere il Frosinone ma anche i ciociari devono vincere per non finire fuori dai quarti di finale. È una bella soddisfazione per noi, però adesso la dobbiamo completare venerdì, non sarà semplice ovviamente perché il Frosinone è una grande squadra. Ma il clima sotto la torre è ben diverso da quello che si respira attorno a Castellani. Gli azzurri si candidavano ad essere la favorita del campionato ma al momento ne è la grande delusa. I nerazzurri di D'Angelo invece sono saliti dalla C e sono diventati la rivelazione. L'euforia dei tifosi che ieri hanno scortato in centinaia la squadra allo stadio prima della gara vinta con Lascoli potrebbe essere contagiosa anche per Marconi e compagni.